Salve ragazzi e bentornati su The Witcher 3 Wild Hunt Ci troviamo alle prese della quest, la figlia del sangue ancestrale E vorremmo, suppongo, scoprire cosa Avalak voleva nascondere a Ciri Non so quanto questa sia una buona idea, devo essere sincero, però E dove ci hanno condotto... Ah, eccole lì, Ciri e Yannifer Dove ci hanno condotto le nostre proti... Le donne della nostra vita, se così vogliamo chiamarle E' qualcosa di interessante... Quindi, alcuni incriminati matteri, closet full of skeletons... Non ho mai aperto la porta ancora... E' una barriera magica molto complessa... Proviamo... Yippa, Ligon! A sfondare una protezione di Avalak, che comunque, per quanto dir si voglia... Dovrebbe avere un'esperienza infinitamente superiore a quella che aveva... Cioè, che ha... Yannifer stessa... Io... Mentre io ci vado di Ligni... Non era così che intendevo andarci di Ligni... Fortunatamente il... Lir them mix... Scalato con... Ligni sta andando decentemente... Mi sta un pochettino rimbambendo... E penso si noti dalla voce... E... Mi riesco ancora a danneggiare la sua distanza? No... Ma tanto Ciri dovrebbe essere abbastanza in grado di difendersi da sola... Mentre io insisto... Ok... E se ci vado soltanto con un po' di cattiveria così... No... Niente di... Nessun miglioramento... Oh... Buono! Vabbè, perché non attacchi più Ciri? Perché ti ho fatto troppo male io nei precedenti attacchi? Eh, la mia build assegni fa il suo porco lavoro, credo, eh! Ok... È morto prima di darmi un destro in faccia... E di questo ne sono grato! Ora... Prima di entrare, visto che il... Il cagnolino da guardia di Avalak mi ha fatto parecchi impicci... Meditazione, non questo... Meditazione, meditiamo un'oretta... Sperando che Avalak non torni, tanto per... E vediamo un po'... Il laboratorio di Avalak... Che non ci vede un accidente, però... Ora ci siete un po' meglio... Prima cosi... Non sembra molto come un lab... Questo non provi a nulla... Dobbiamo guardare... Un po' meno volante perché sembrava colare... Rompimando le sulle bambini... Tu hai scopo, mio amico... Per drop di Siri, credo, Non... Non... Non è il mio! Cosa è? Qual è il scar? E' sicuramente tu. Ha davvero capturato tu. Assolutamente che Avalok è solo interessato in te per le vostre abilità magiche. E' divertente. Io non vedo niente di così strano. Anche se in effetti si può scendere ancora. Quindi. Glifo di art. Ah, è vero! Qui potremmo trovare robetta molto interessante. Ovviamente se non ci si interrompe, ragazzi. E' un albero genealogico, fino a qui ci arrivo anch'io. ...e' un albero genealogico, fino a qui ci arrivo anch'io. Per me? Non mi hai mostrato la versione completa. Non avevo idea che Biedmont di Eden era un ancestro. E' l'unico che ha punizzo le sue dottie con un foglio caldo? O' l'unico che aveva gli occhi di suo padre. L'unico delle dottie. Noi, anche io non avevo mai visto la versione completa. Sembra che Avalok ha analizzato tutte le parti del gene di Lara. Anche quelle che abbiamo pensato esterne. ...fatti in modo che determinate linee di sangue si ricongiungessero. Forse. Gordi. Abbiamo avuto due centri su questo. E' stato il primo a studiare il gene di Lara. Volker? Hmm. C'è alcune entri su Siri. Ma è qui, dopo che le cose siano interessanti. In realtà ha cercato di cultivare un mix genetico come Siri. ma una che escluda la linea umana. Cioè, cosa esattamente? Che dovrei stare a guardare delle giuste giuste che guardano i miei sibili? Non sei fulgato. Avalok non è mai arrivato così. Apparentemente tutti gli esperimenti finirono in scuola. E tu sei unico. E' per questo motivo abbiamo il Wild Hunt a contendere. Allora. Vediamo se non puoi trovare qualcosa ancora più interessante. che possiamo immaginare. Però continuiamo a dare un'occhiata. Ok. Qui siamo venuti, no? Infatti. Qui sono sceso. E quindi continuiamo ad andare sempre più in profondità nei meandri della... dell'ossessione di Avalok. Non mi sembra molto contento di ciò che vedeci. Uh. Questo? Hmm. Hmm. Il Wild Hunt è sicuro che i miei sibili. Hmm. Non erano standard. Non ho aspettato un portale hidden. Anche se mi aveva dato quell'impressione. Come hai arrivato qui? Chi sei? Non i tuoi concerni. Fuori qui. Ora. Tu? Mi ricordo tu. Da Tirnallia. Ricordato. Pensavo che tutti gli elvi sbagliati con i tuoi. Sì. Se è Avalok che ti vuoi, non è qui. Lo so. E ancora, tu vieni qui. Perfetto. 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 Perfetto di lui. L'ho cercato di salvarti ogni volta che fai qualcosa stupido. E' quello che sai? Cosa puoi sapere di questo? Sì. E' sorpreso. Mi ha detto un grande amico di te. Può essere che è semplicemente la compagna? Siri. Let's get out of here. No. I want to listen. He said you shared Lara's speeches. I don't see whatever it is he sees. It seems a bit like trying to drink water from a mud puddle. But, I imagine that belief somehow helps him with his task. What task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you. It's incredible how those like you still believe you're superior to humans. In any way. She's no human. She's a degenerate half-breed. To have no choice but to use something like that? It's humiliating. Another word? And I'll... What? You'll change nothing. She must do what she must. Then Avalak will finally be free of her. If he hates me so deeply, why didn't he tell me to my face? Ciri, you didn't actually believe her, did you? She's personally involved in the matter. That's clear. What of it? If they despise me so, they should leave me be. Ciri! Ciri? You're afraid I'll level this place like I did in Kaer Morn? Shame. I can't do that, I will. Because I'd really like you now. I'm sorry. I can't wait to call it. Come from here. Let me get aії. giù cose, non mi dire. Il bambino, va. Come far sfogare un adolescente, che non è l'adolescente, però, fingiamo che sia un adolescente, un adolescente arrabbiato. Io spero che non rada al suolo l'isola. No, cari, non si è limitato a un altro. L'intera isola sarebbe stata un po' troppo. Allora, questo è meglio. Siamo fuori da qui. Sembra sbronza, tra l'altro, lei. Forse è solo stanca. E Yannifer, giustamente, gli ha vandalizzato il quadro. Ah, ok. Usciamo e speriamo di non avere brutte sorprese. Penso che questo dovrebbe aver rilassato un pochettino Ciri, almeno spero. E' più veloce io? E' più veloce io. E' più veloce io. E' più veloce io? Siree, Scarl è morto. Il giocatore? Tutti? Non c'è nessuno? Scarl è morto dopo. C'è sicuro che era lui? Tu l'ai conosciuto? Io ero. Io vedo il corpo. Voi visitare il corpo con me? Io vorrei... ...dia dicerci. Siri, non c'è tempo per questo. Sto cercando di proteggerci in realtà. Abbiamo cose più importanti da fare adesso. Sì, sempre ci sono cose più importanti. Se vi ricordate abbiamo rianimato il cadavere di quel ragazzo per farci dare informazioni, quindi non vorrei che Siri lo venisse a scoprire. Ecco. Infatti. E pensate che pensavo di aver fatto un buon lavoro dentro. Invece no. C'ho proprio la faccia da cane abbastonato. Ok. Sì, ma meno da dare una spiegazione, sennò io mi ritrovo qui come un soldo falso. Ok. Grazie. Credo che a questo punto, infatti, la quest è terminata. Così come questo video. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao.